Adesso ci mettiamo con le gambe a rana, quindi pianta con pianta Allora, in questa posizione, se la colonna non rimane bene prita, vi vedete un cuscinetto dietro, sotto il sedere Deve esserci un sostegno a livello di sacro, in modo tale che la schiena rimanga abbastanza dritta Da questa posizione andiamo un pochettino in avanti con il busto senza piegarlo Quindi vai anche sulle braccia, senza tirare troppo la schiena Non rimaniamo rigide e continuiamo a respirare con la pancia Se fate fatica, potete anche aprire le gambe Dopo le distanziamo un po' A caso mai, come lei, aprire un po' i piedi se fate fatica a mantenere i piedi E poi lo ripetete Grazie 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 Grazie